Sono già tanti gli attori e le attrici che hanno risposto alla chiamata del regista Max Bartoli e parteciperanno a titolo gratuito alla realizzazione del cortometraggio The Secret of Joy. Fra questi anche il napoletano Sergio Sivori. Le riprese cominceranno da dicembre negli Stati Uniti e il lavoro sarà nelle sale americane a maggio 2015. Ecco perché le immagini che vedete si riferiscono ad ignotus pluripremiato corto girato da Bartoli con Sivori nel 2006. The Secret of Joy sarà regalato ad una fondazione e ad un ospedale pediatrico di Los Angeles che potranno utilizzarlo per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro infantile. The Secret of Joy, il segreto della gioia è proprio questo, dare una speranza a questi bambini di poter uscire dall'incubo della malattia. Sivori Porterelli è corto che sarà accompagnato da un libro con foto di scena in Italia e in Spagna. Si narra la storia di Joy, bambina di 10 anni, malata di tumore, che sogna di entrare nei panni di una fata nel regno di Re Artù, popolato da cavalieri, dame, folletti e mostri da sconfiggere. Il risveglio la riporterà alla realtà, all'ospedale, dove i medici che l'hanno in cura riusciranno a salvarle la vita.